Qua sul lago tanti, tanti, tanti tedeschi. Tanti tedeschi, ma anche olandesi, austriaci, scandinavi, francesi e inglesi. Sono soprattutto i turisti stranieri a mantenere altissimo il livello di presenze estive sul lago di Garda. A Limone si registra il tutto esaurito, segno che l'intenso lavoro fatto durante l'inverno per attirare i turisti sul benaco sta dando i suoi buoni frutti. Come riviera dei limoni e dei castelli lavoriamo tutto l'inverno, andiamo a fare anche da quest'anno, abbiamo fatto 28 fiere europee, andiamo a fare le fiere, promuoviamo il lago. Qualche frutto sul lavoro che facciamo ci ritorna. Se per il lago il mese di giugno è stato pessimo a causa del maltempo, i mesi di luglio e agosto stanno andando molto bene e ci sono già numerose prenotazioni anche per il mese di settembre. Aumentano i villeggianti anche se restano per periodi più brevi rispetto al passato. Quest'anno sono 5,9 milioni le presenze sul Garda, le mete preferite, Sirmione, Desenzano e Limone con i suoi 10.000 turisti. Sul benaco la stragrande maggioranza dei vacanzieri proviene dall'estero, 4,3 milioni contro il milione e mezzo degli italiani. E infatti sul lembo di spiaggia sotto le caratteristiche limonaie si trovano soprattutto stranieri. Per trovare un turista locale sulle spiagge gardesane bisogna scendere a Salò, anche qui si registra il tutto esaurito. Siamo molto soddisfatti di questa stagione, 50% italiani e 50% stranieri. Anche quest'anno si vedono già molte persone, molti stranieri, nonostante la crisi e fine settimana naturalmente diventa metà anche delle città qui vicine per cui siamo molto contenti di ricevere i nostri ospiti. È pieno, sì, pieno di tedeschi e olandesi, ho visto. E noi anche, perché noi siamo turisti in fin dei conti.